Nella scorsa lezione abbiamo visto le conseguenze delle leggi razziali. Oltre che nei confronti delle minoranze, il controllo si intensificò anche verso i comuni cittadini tedeschi, che sempre più spesso vedevano irrompere in casa propria uomini dell'SS o della Gestapo alla ricerca di prove di un eventuale tradimento. Insomma, anche in Germania si era instaurato un vero e proprio regime del terrore. Ma perché Hitler aveva bisogno di un controllo e quindi di un consenso così rigidi? Perché in realtà si stava preparando alla guerra. Anche a livello internazionale gli equilibri poi stavano cambiando. Dopo che la Società delle Nazioni aveva condannato l'Italia per i metodi usati nella conquista dell'Etiopia, condanna che aveva causato le famose sanzioni economiche, Mussolini aveva perso il sostegno della Francia e della Gran Bretagna. Per paura di rimanere isolate, accettò l'offerta di alleanza da parte di Hitler, che lo considerava il suo modello. Il primo atto concreto di questa alleanza fu la partecipazione alla guerra di Spagna. Allora, vediamo che cos'era successo. La Spagna era un paese fortemente arretrato dal punto di vista economico. Nel 1933 le elezioni avevano sancito la vittoria di repubblicani e socialisti. Tra le altre cose furono le prime elezioni in cui poterono partecipare anche le donne. Visto il risultato, insomma, il re Alfonso XIII abdicò e venne proclamata la repubblica. Come succede però sempre in questi casi, il nuovo governo fu costretto a prendere dei provvedimenti piuttosto gravi per risolvere i suoi problemi e tra questi propose una riforma agraria che avrebbe però colpito i grandi proprietari terrieri e i possedimenti della chiesa. Le forze contrarie a queste iniziative del governo si raccolsero intorno al generale Francisco Franco che aveva manifestato delle simpatie nei confronti di Mussolini e di Hitler e si scatenò così all'interno del paese una guerra civile. Una guerra civile che fu molto sanguinosa, che durò tre anni e che coinvolse ovviamente tutta la popolazione. Gli spagnoli non combatterono da soli, ricevettero degli aiuti, degli aiuti militari da parte della Germania e dell'Italia alle truppe del generale Franco, degli aiuti dall'Unione Sovietica nei confronti invece delle forze repubblicane e soprattutto tantissimi volontari che arrivarono veramente da tutta Europa. Il Führer mandò principalmente degli aerei, mentre il Duce oltre agli aerei mandò anche navi e molte truppe di terra. Lo scopo principale di Hitler era in realtà testare la sua nuova aviazione e le sue nuove armi come ad esempio i carroarmati, in vista di una guerra molto più vasta. Il test fu pienamente superato perché l'aviazione tedesca realizzò il primo bombardamento totale radendo al suolo la città di Guernica. La guerra di Spagna terminò nel 1939 con la vittoria di Franco che diventò poi dittatore della Spagna. Nel 1938 Mussolini intanto diede a Hitler un'altra prova di fedeltà. Quindi oltre ad essersi alleato con lui per aiutare i franchisti in Spagna. In che modo? Adeguandosi alla politica razziale della Germania. Varò cioè una serie di leggi che esclusero gli ebrei da numerose professioni, cacciarono i bambini semiti dalle scuole e tutte queste leggi furono firmate anche dal re Vittorio Emanuele III e come accadeva in Germania, anche in Italia il controllo della polizia segreta, la censura e la propaganda si intensificarono sempre di più. Intanto Hitler stava realizzando i suoi obiettivi. Allora, cosa gli rimaneva da fare? Gli rimaneva praticamente la conquista di quei territori che gli avrebbero permesso di costruire la grande Germania per poter riunire tutti i popoli di lingua tedesca. E questi territori erano il territorio qui, il corridoio di Danzica, che originariamente faceva parte dell'impero tedesco e dopo il trattato di Versailles invece venne dato alla Polonia e poi tutta questa parte che era abitata da popolazioni di lingua tedesca e che Hitler ambiva ad annettere alla Germania. Gli avvenimenti nel 1938 precipitarono velocissimamente. Nel marzo del 1938 il governo austriaco dichiarò l'annessione dell'Austria alla Germania. Qualche giorno dopo, un paio di giorni dopo, venne fatto un plebiscito, una specie di referendum. Questa è la riproduzione della scheda. Il testo tedesco dice Sei d'accordo con la riunificazione dell'Austria con il Reich tedesco avvenuta il 13 marzo 1938 e voti per la lista del nostro Führer Adolf Hitler? Allora, vorrei farti notare che in questa scheda dove un cittadino teoricamente era libero di rispondere sì oppure no, lo spazio dove rispondere sì è bello, grande, centrato nella scheda e poi qui di lato in piccolo c'è il no. In qualsiasi caso questa votazione fu effettivamente un plebiscito, andò a votare il 99% della gente e quindi l'Austria divenne territorio tedesco. Qualche mese dopo, nel settembre del 1938, Hitler manifesta l'intenzione di annettersi anche i Sudeti che è questa regione che comunque faceva parte della Cecoslovacchia. Francia e Gran Bretagna a questo punto cominciano a preoccuparsi e allora Mussolini propone di fare una conferenza a Monaco per risolvere la questione in modo pacifico. In effetti la conferenza si farà e a questo incontro parteciperanno i capi di governo della Francia, della Gran Bretagna, qui vedi Hitler e qui vedi Mussolini. Alla fine di questo incontro verrà presa una decisione, cioè verranno concessi i Sudeti alla Germania in cambio però della promessa da parte di Hitler di non espandersi ulteriormente. In questa foto si vede il ministro inglese Chamberlain che mostra con orgoglio il trattato con il quale tutti pensavano di aver scongiurato una guerra e di aver risolto la faccenda in modo tranquillo. In realtà le cose non andranno così. La Germania si prenderà per prima cosa i Sudeti che sono questa parte azzurra. Quasi contemporaneamente l'Ungheria rivendica e si annette questa zona della Slovacchia e successivamente anche questa che era una regione autonoma. E poi Hitler non si ferma ai Sudeti ma prosegue e praticamente invade tutta la Ceca e lascia come territorio autonomo soltanto la Slovacchia. In pratica la Ceca non esiste più e se hai fatto caso all'immagine precedente qui assistiamo alla spartizione della Cecoslovacchia ma alla conferenza di Monaco non era stato invitato nessun ministro della Cecoslovacchia. Nell'aprile del 1939 il mese dopo che Hitler aveva praticamente invaso tutta la Ceca Mussolini decide di invadere l'Albania perché l'Albania era sempre stata considerata un territorio molto importante per l'Italia. Ma il colpo di scena che nessuno avrebbe mai immaginato accadde il 23 agosto del 1939 quando la Germania e la Russia firmarono un patto di non aggressione passato alla storia come patto Molotov-Ribbentrop dal nome dei due ministri che l'avevano firmato. Perché un colpo di scena? Ma perché noi abbiamo visto finora che Hitler odiava socialisti e comunisti in Germania li aveva perseguitati deportati nei campi di concentramento uccisi e noi sappiamo che Stalin era al potere in uno stato comunista dove c'era la dittatura del proletariato. Ma questo patto era molto comodo per entrambi. In pratica che cosa veniva stabilito? Veniva stabilito che Germania e Russia non si sarebbero attaccate non si sarebbero fatte guerra a prescindere da quelle che sarebbero state le loro decisioni anzi l'accordo prevedeva anche una spartizione di alcune parti dell'Europa una spartizione pacifica in modo da scongiurare una guerra tra i due paesi. Questa è una vignetta che fa vedere molto bene quanto era strana questa alleanza. Una volta sistemata pacificamente anche la questione russa cioè una volta che Hitler si fu assicurato che dalla Russia non avrebbe avuto nessun tipo d'attacco il primo settembre del 1939 Hitler annuncia che i tedeschi si sarebbero ripresi d'Anzica e invade la Polonia. Comincia in questo modo la seconda guerra mondiale.